Ma che fa? Va via quei finanzieri. Oh, addiglio! E' inconcepibile, si tormentano i cittadini per bene e intanto i delinquenti. No, se vuole venire con noi deve usare la nostra macchina, commentatore. Mi dispiace. Con la vostra? E per quale motivo? Eh sì, fa parte del regolamento. Il regolamento? Ma chi gliel'ha detta lei che io non posso venire con la macchina via? Io non insisto, avanti. Mi hai tappato, mi dispiace, ma questa è la prepotenza che hanno l'accesso. Io voglio... Leppoli! Leppoli, dai, sento! Via, via! Via! Pronto, centrale! Pronto, centrale! Qui Vitali, auto 3 speciale. Qui, centrale, ti ascolto. Vista sul rosso e avverti il capitano. Hanno rapito lombardi su una Giulia targata guardia di finanza. Hanno preso la strada dei laghi. Gli stiamo addosso. Bel colpo, Vitali. L'abbiamo imbroccata giù. Sì, capitano. Però adesso ci serve aiuto. Sto mandando tre macchine nella sezione in appoggio. Saranno lì a minuto. Vitali? Sì, capitano. Sta in campana. Ci sono stati due incidenti. Mandate anche le autoambulanze. Schiacciali, abbiamo attaccati al culo. Stai calmo, siamo quasi arrivati. Capitano, mi ascolta? No, qui abbiamo su una strada secondaria di raccordo. Settore 18, riquadro B1. Faccio convergere tutte le auto. Fate presto. Settore 18, riquadro B1. Settore 18, riquadro B1. VITALI. Pronto, VITALI. LEPORI. RISPONDETE, CRISTO. RISPONDETE. RISPONDETE, CRISTO. Grazie a tutti.